Tiziano e Cico L'obiettivo attraverso una raccolta fondi è quello di comprare una nuova roulotte per Tiziano e Cico L'abbiamo trovata, è una roulotte buona, grande quanto questa dove sta ora, visto che c'è anche Cico che ha il suo spazio e quindi la nostra intenzione è proprio questa, acquistarla e quindi cambiarla prima che arrivi il freddo E' nato così un comitato di cittadini per dare una mano ad entrambi, contattabile all'email tizianoecico-libero.it Sì, sono gentili, sono carini, questo qua mi porta tutte le mattine il caffè, quello di questo negozio, persone buone Non erano persone buone, mi costavo qua tutti questi anni